Da bambino, Parwana, ha presi il significato di pace. Le favole rimangono nel cuore quando tutto il resto se ne va. Parwana, mi stai ascoltando? Sì, papà. Perché questa ragazza non è a casa? Deve coprirsi adeguatamente! E tu dovresti smettere di guardarmi! Potrei farsi uccidere! Gli affari promettono bene. E lì dentro ci sono donne! Copritemi immediatamente! Dove lo state portando? In prigione. Papà! Andrà tutto bene. La mia famiglia è in condizioni davvero disperate. Mi dispiace, piccola. Ragazza, ti ho detto di fermarti! Ma tu sei Parwana! Ciao, Sian. Adesso che sei un ragazzo, puoi andare dovunque tu voglia. Andrò a cercare papà. No, non ci andrà. Sì, invece. E non puoi fare niente per fermarmi. Potrei raccontartela come una favola. È una favola allegra oppure una favola triste? Lo scoprirai.